Un Natale all'insegna del buon cibo e delle tipicità. La Villa Comunale ha ospitato oggi il mercato di Campagna Amica di Col di Retti, di Azebo Gialli con agricoltori provenienti dalle aziende aquilane che hanno messo in mostra le loro eccellenze, che saranno sulle tavole di aquilane turisti in questo Natale, vino tartufo, confetture dolci e cesti natalizi realizzati praticamente a chilometro zero. Il mercato ad evento verrà replicato anche il 30 dicembre e il 5 gennaio con lo street food Contadino, un'occasione per portare sulle tavole buon cibo locale, per conoscere aziende e produttori del territorio. Tante le varietà di prodotti presenti nel mercato della Col di Retti, sempre molto apprezzato dai cittadini. Jacopo Di Battista, coordinatore regionale di Campagna Amica, il mercato di Campagna Amica di Col di Retti all'Aquila e alla Villa Comunale, un Natale a chilometro zero, tanti prodotti tipici, insomma alla buona tavola, al buon cibo non si rinuncia mai. Siamo tornati qui nel centro dell'Aquila, nella Villa Comunale, una nostra presenza qui molto significativa, dato che l'ultima nostra presenza è data da 2019. Siamo qui sia il 23, quindi oggi che venerdì, il 30 sempre venerdì dicembre e il 5 di gennaio saremo qui tutta la giornata appunto per dare la possibilità a tutti del nostro buon cibo e dei nostri prodotti tipici. La crisi si sente, si tende un po' a risparmiare, ma sul cibo qual è la tendenza dei clienti? La tendenza soprattutto nei mercati di Campagna Amica è quella del prezzo giusto, quindi abbiamo un giusto riconoscimento per il produttore e un giusto riconoscimento anche per il consumatore, dato che la marginalità del guadagno appunto da parte del produttore è maggiore rispetto alla grande distribuzione, visto che vende direttamente al consumatore finale.